Raghi! Raghi! Oh, Jenny, Jenny! Oh, ma è proprio lei? Ma che macchina! Scusa, vi dobbiamo parcheggiare! Oh, che bella macchina che hai! Oh, che bella macchina che hai! Allora, sapete che nel prossimo aggiornamento di Barry Avenue si dice che ci sarà... Oh, sei messo dal guidatore? Si sta rubando la macchina questo! Tu parla, tu parla! Nel nuovo aggiornamento di Barry probabilmente ci sarà un centro commerciale quindi dobbiamo prepararci, no? Perciò oggi ho pianificato che passeremo tutta un'intera giornata al centro commerciale! Paghi tu, vero? Tu ne copri tutto, tu! No, no, ma hai detto questo, ma hai detto! Eh, io l'ho sentito, tu l'hai sentito, Lore ha detto vi pago palesemente tutto! Certo che hai pagato tutto lei! Io sono così felice che andrei in acqua in questo momento! No, la mia nuova anglia! Aspetta che scendiamo, aspetta che scendiamo! No, no, lascia perdere! Me l'ha schiantata! Perfetto, siamo arrivati! Allora, Canro e Mall! Ma che bel posto! Sì, è grande, c'è un po' di roba, eh! Siete pronti? Mamma mia, sì, è proprio bello! Pet, swear market! È incredibile! È schifo però a terra, eh! Avete dei posti preferiti? Aspetta che pulisco io, non posso pulire! Non puoi pulire! Eh, ci sono gli inservienti! Ah, io sì, scusate, non ho fatto la spesa! Ma come vieni? Ma io ti porto al centro commerciale e tu vieni che fai la spesa! Vabbè, devi comprare quattro meloni, due anguri e quattro mele! Sto comprando un carrello, aspetta! Io pure, dov'è il carrello? È qui, 120 robux per il carrello! Quanto? No, Roby, non si ruba! Roby, non si ruba! No, 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 mi spiace, mi spiace! Non volevo, non volevo, non volevo! Siete dei delinquenti! No, no, vado a pagarla, vado a pagarla, subito! Sapete che cosa va bene? Allora io compro una mela, mi prendo, ti faccio fare... Allora io faccio le file automatiche, ragazzi, ti pare? Allora, la mela... Non lo so, penso che si debbano mettere nel sacchetto! Ah, qua c'è il self-checkout, eh! Sì, venite qua, venite qua! Esatto, bravi! Scansiona, pagamento, fatto! Scorri la carta! Avete una carta nell'inventario, dovete... Scusi, l'ho visto! Ecco, perfetto! Ok, io l'ho comprata! Ecco, io ho il panino e la mela! Sai che cosa faccio io? Non le pago, perché non... Oh, sto scandalizzando a... Ho comprato tante arance! Tante arance i pregi! Perché il mio colore preferito è l'arancione! Mamma mia! E io pago con la mia carta! Devi stare attenta col carrello! Ormai l'ho comprata le cose, sto pure mangiando! Mamma mia, io non ti posso vedere! Andiamo, dai, sei dentro! Perfetto, andiamo! Andiamo dentro, posso stare e chiettere sul carrello? Sì, sì, fermi, entrate! Ok, io... È troppo pesante, la raga! È più alto di me, poi, tra l'altro, sto carino! Ok, dove vado a andare? Allora, io vedo già un posto molto bello, molto bello! Venite qua, sopra, al pieno di sopra, però dobbiamo prendere le scale mobili! Ok, quelle si scende, quelle a destra si sale, giusto? Allora, sì, esatto, io sbaglio ogni volta! Ma le scale mobili si muovono, giusto? Eh beh, se no non si chiamerebbero mobili! Se no sarebbero immobili, giusto? Eh, per forza! Siamo all'arcade! Allora, vi posso far vedere uno dei giochi che ho trovato prima, che secondo me è molto bello! Voglio che mi battete, ok? Ok! Praticamente questo è un gioco dei salti! Ok, quanti salti fai? Esatto, io faccio un tappo di salti! Io ho 10 euro se perdi! Mamma mia! Non perdo! Ma devo vincere? Come devi vincere? No, perdi! Ma come perdi? 12 euro! Dai, Lore, non imbrogliare, vediamo chi vince veramente! Guarda, ti faccio vedere, ti faccio vedere! Guarda, allora, uh! E devi saltare, fai i punti! Uh, che bello! Ora, vediamo quanti punti riesco a fare! Vediamo quanti punti riuscite a fare voi! 9, no, 8, 12, come è successo? Come è successo? 16! Aiuta! Oh, sta diventando sempre più veloce! Oh, ma sei bravissima! Oh, mamma mia! Ma come sta parando? Sto saltando! Allora, ho fatto la modalità normale! C'è anche quella difficile, in realtà! Io quella difficile non l'ho mai fatto! Oh, ma, cavolo, perché sei così brava? Faccio palestra, ragazzi, faccio palestra! E ho capito! Più veloce! Più veloce! Aiuta! Mi sto confondendo, mi sto confondendo! Ah, una pistola in mano! Più veloce, brava! Vai, non, solo tu, mi sto così brava! Ok, lo faccio io! Benvenuto! Paga 145 di cash! Ok, vai! Non voglio pagare il cash! Vai, paga, paga! Meno 5! Forza! Funziona! Non funziona sto coso! Sulla testa c'ha scritto ricercato! Oh, no! Oh, mio Dio! Come hai ricercato? È vero? Non sono ricercato, lo giuro! È un omignolo! Guarda, guarda qua! Sei! Ma perché secondo te aveva tipo una pistola in mano prima? Non sono più ricercato! Non sono più ricercato! Guarda! Guarda che velocità! Guarda che velocità! E su ti supero! E su faccio più punti di te! Vai! Non lo so, eh! Non lo so! Perché sto... No, ma così, così, eh! Secondo me... Vai, vai! Più veloce! Vai, forza! Forza! Vai, Lore! Io ci credo in te! Ti credici! Io ho un po' di mano! Brutta macchinetta! Oh, la pittana! Oh, più Dio! Oh, più Dio! Oh, più Dio! Vieni qua! Vieni qua tu! Ma è super ricercato! È un delinquente! Vabbè, ma hai giocato! L'ha comprata dal supermercato! Proviamo un altro gioco! Allora, allora! C'è questo della torta dove devi schiacciarla più volte possibili! Oh, questo ci penso io! Ci penso io! Tu? Sei sicura? Te la senti? Sì, sì! Come si paga? Eh, devi schiacciare qua sotto! C'è il pulsantino! Ah, ok! Aspetta! Clicca qui! Ok, devi schiacciarla! Proprio spammare di... Proprio... Ok, tre! Rompiti il mouse! Ok, tre! Ok! Vai! 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 Mi chiede torta! A sinistra! No, non ti preoccupare! Tu schiaccia la torta! Ok! Devi raggiungere le 400 volte per avere 200 biglietti! Poi vediamo che cosa puoi comprare! Capito! Sto schiacciando! Schiaccia! 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 Sto schiacciando! Non schiaccia! 3, 2, 1... Ok, hai schiacciato! Hai distrutto! Vediamo! 171 volte! Mi dispiace! Ok, faccio io! Io sono più veloce! Quando scommetti! Vediamo! Pronto! Distruggi torte! Vai! Posso iniziare? Sì, devi schiacciare! Ok, perfetto! Preparati! Vai! 3, 2, 1... 3! Ma come faccio io fare? Ma ragazzi! Io punterò 300 punterò! Ma come faccio io fare quasi 500 click in 20 secondi? È impossibile! Io ce la faccio perché io sono un mito! Sono bingus! È pazzo! Io non lo vedo! 3, 2, 1... Allora, secondo me ne ha fatti più di te! Non lo so! È schiacciato! 137! 137! È stato bravo! È stato bravo! Non ne ho fatto di più io! Non lo so! Ragazzi, ok! Abbiamo dei ticket! Ne ho solo 34! Io ne ho 54! Non posso prendere niente! Non posso prendere neanche i chiodi d'acqua! Perfetto! Ottimo! Allora, usciamo la case! Se vogliamo girare che è introposto di questo centro commerciale! Usciamo anche se sono ricercato, ragazzi! Mamma mia! Oh mio Dio! Allora, colazione siamo già andati a imparare il roba da mangiare! No, è una rosecchina! È un gelatino che lo vorrei! Vorreste un gelatino? Sì! È molto bello stare qui con voi! È veramente un'emozione unica! Ma te ne dite che per l'estate ci facciamo tutti un taglio di capelli diversi! Tutti i biondi! Tutti i biondi! Tutti i biondi! Tutti i biondi! Vai! Aspetta, richiedi uno stile! No, non ci posso credere! Ma te ne sono due! I 13! Vabbè, non fa niente! Io ho capelli corti, sicuramente! Come i capelli corti? Vabbè, non ci sono capelli corti! Però se nessuno ci fa i capelli! Mi scusi, vorrei i 13! Ah, mamma mia! Ma che sei diventata! Mi chiedi uno stile! Aspetta un attimo! Docca a me! Docca a me! Devi andare dal tizio! Ah, che hai capito! Ho capito! Ho capito! Io ho divento tre! Ho richiesto! Mamma mia! Aspetta! Oh, che ridete! Che ridi! Perché ogni volta a fare l'upgrade delle armi? Prima aveva una pistolina, adesso c'è un fucilone! C'è un altro carcerato qua! Mamma mia! Eccoci qua! Siamo pure in germe! Oh, che cazzo è subito! Lorenzo, non ci sono una persona! Io non ho visto niente! No, non era voluto! C'ho guadagnato i soldi, comunque! Ma guadagnato i soldi! Ha preso pure i soldi! Non ho parole! Andiamo! Ma sai, vediamoci i giocattoli! Devo capire i giocattoli! Voglio la palla da calcio! Allora, voglio questa! Una Among Us! Dov'è la Among Us? Voglio la Among Us! Ragazzi, ma io non ho rubato niente! Perché... Voglio pure io la Among Us! Uno! Comunque, quanti soldi avete voi? Sarete ricche! Non lo so, dove si vede! Non lo so, in realtà! Ah, in profilo! Il pallino rosso in alto! 185! Io ne ho 266! Io pure! 185! Allora, tu hai fatto... Allora, io voglio... Palla canestro! Un attimo, sto pagando! Va bene, va bene, sbrigati! Aburazione, fatto! Non riesco a capire chi è chi! Abbiamo tutti seguiti i capelli! Adesso non sfasti! Io sono molto più bello! Devo dire che... Ma con la palla... Ti donano molto, sai! Soprattutto per l'estate! Grazie, grazie! Ma io so, per fare le cose! No, l'ho comprato! Sei ricercata! Non l'hai pagata! E io l'ho pagata! Visto, guarda, l'ho pagata pure io! Allora, fate pagare! L'ho pagata! L'ho pagata! Non pagherò due volte! Qua c'è anche il negozio tech! Comunque, se vuoi... Allora, io sto pagando tutto! Ma un cellulare qua costa 1899 euro! Allora, Roby... Io direi che possiamo fare una cosa! Vedi questo, sus guy! È il momento di fare una rapina! Passate, fai una rapina! Non lo voglio verde! No, neanche io lo voglio verde! Che schifo! Se io condisco le casse, eh! E faccio una rapina! Due! Io lo voglio nero! Vai! Una, via! Fai sta rapina! Vai! Dammi tutti i soldi! Poi... Sto sparando le casse! Non mi dai soldi! Eh... Io vado, eh! Io ho preso il telefono! Lo stiamo rubando! Vai, vai! Ruba il telefono! Non ti preoccupare! Ci sono io! Pure io ho preso il telefono! Mamma mia! Sono ricercata per quasi un minuto intero! Ti rendi conto? Anzi, più di un minuto! Ma cosa hai fatto? Nemmeno io che c'ho... Che c'hai la pistola! Eh, abbiamo preso il telefono! Eh, vabbè! Forse è perché ho pagato l'avungasco! Ma quella ricercata di Roby? Che fa? Qua, qua! Sto andando al centro massaggi! L'avungasso! Ci serve dopo aver rubato il telefono un po' di tranquillità! Anzi, no! Prima di andare al centro massaggio andiamo alla palestra! Prima mi stanco poi mi rilasso! Prima mi rilasso poi mi stanco! Ah, giusto! Perfetto! Ok! Tu fai palestra, Lore! Che cosa dovresti fare di palestra? Io faccio il tapirupingu! Mamma mia! Il tapirupingu! Vai, corre! Guarda, guarda io come sollevo i pesi! Pure al contrario! Con i capelli al vento, ragazzi! Che bello che sono! Jenny, guardami! Oh, 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 oh! Sei talmente tanto forte che nemmeno tocchi la sbarra! Jenny, guardami! È un po' storto, lo so, però guarda, guarda che bello! Sembra che te la sta facendo addosco! Con questi squad! Cos'hai detto? Che è bravissima! Niente, bravissima! 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 Allora, io ho fatto tutto, eh! Credo di aver fatto proprio tutto! Ma l'acqua me la possono dare un po' di più, no? Il tour de France! Guarda come sollevo storto! Ma perché è storto? Io non lo capisco! Eh, perché sei talmente forte che hai bisogno di rendere le cose difficili! Eh, hai ragione! Ma chi è il caffone? Sta rubando! Il caffone che ha buttato patatine! Sta rubando! Mamma mia! Ma chi sta rubando? Sta rubando! Sta rubando! Non lo so! Le patatine a terra! Non le posso rubare, le avrei prese! Venite, ragazzi! Come fai ad essere ricercati un po'? Al centro massaggi! È il mio momento! Che ti deve fare un massaggio? Mi scusi, prego, ragazzi! Sembrava un po' morti così, proprio! Un massaggio? No, no, no! Io sono a posto! La mia schiena è a posto! Sto benissimo! Ma è stata così fresh, proprio! Vuoi un massaggio? No, no, io... Signorina, venga, un massaggio! No, sto benissimo! Senti, sai che cosa? Andiamo a comprarci una macchina! Certo, va bene, va bene! Sei d'accordo? Roby, sei viva? Eeeh! Lore, ma qua c'è la tua versione vestita da Louis Vuitton! Vieni, vieni! Roby, sei viva! È morta Roby! Cisa! Ma mamma, non parla più! Lore, la vedi? È la tua versione ricca, guardalo! Lui non può essere mai più bello di... Fagliela vedere! Risolviamolo! Vai! Problema! Oh! Ed è qua! Non muore! Non muore perché sei tu, capito? Per oggi ti lascio vivere! La prossima volta cerchi di essere meno Lorenz! Ok, allora, che macchina vorresti? Vieni qua! Io ovviamente voglio una Mercedes nera! Vai! È l'unica! Anzino, gialla, gialla! Guarda che bella, gialla! È certo, è una Lamborghini! Costa 14.000! Poi riparla! Come si apre? No, non credo che... Come facciamo a comprarla? No, questa è qua, ma costa troppissimo! Però... Allora, vediamo quanti soldi ho! Sai che cosa? Potremmo rifarci? Sono usciti dei soldi! Lore! Non so cosa sta succedendo in questo negozio! Però possiamo prendere delle monete per diventare più ricchi! Posso toccare le ruote alla macchina? Non credo! Ragazzi, la Lamborghini è peggio di un Cybertruck! Allora, io mi rifarei comprando degli animali! C'è il pet store! Allora, io pure prendere le monete che ho visto qui... Esatto! È l'unico negozio che ci manca! Ma Roby che è morta, ma può risuscitare! C'è qualcosa anche per lei? Io non lo so, io spero di sì! Ma posso prendere lì? Dobbiamo fare un rituale per riportarla in vita! La sua tomba! Ok! Allora, vieni! Giriamo tre volte su noi stessi! È risuscitata! Ma non è bionda! Qui per la mia vendetta! No! Aiuto! Si stanno sparando! Qualcuno li fermi! Vabbè, non c'è la sicurezza in questo... Senti, mi accompagni a comprare un cane! Certo! Perché sei mortale? Perché sei mortale? Non lo so! Allora, Carlino... No! Mi costa 900... Non c'ho io i soldi per un Carlino! No, ragazzi, eccomi! Io ho un gattino! È ritornato dall'aldilale! Era meglio qui, però! Ecco, il mio gattino fluttuante! Beh, ragazzi, direi che questa è stata una giornata molto fluttuosa! Che ne dite? Ma sì! Assolutamente, sì! Ma il gattino come me lo metto, scusami! Eh, devi schiacciare qua e equipaggiartelo! Io voglio un gattarino! Eh, io volevo un gattarino! E io volevo un gattarino, volevo lui! Che alla faccia stupidissima, però non c'era! Ma che è il gatto vola? Questo sembra il figlio di Scooby-Doo! Perché sto volando? Mettò il meno costoso, ho comprato una renna! Eh, il meno costoso! Che carino! Guarda, ho comprato una renna che fluttuo! È bellissima! Io non voglio potervi mai più, per favore! Allora, mamma ha detto che devo essere a casa entro le nove, quindi mi dispiace, dobbiamo tornare! Ah, chi è questo? Comunque, i capelli toni ti stanno bene, eh! Sono l'unica che è rimasta bionda, non ti posso vedere! Ah, ma perché a me amm... Gli altri sono immortali tranne me, non ho capito! Ok, possiamo tornare a casa, Jenny! Bene, bambini, andiamoci! Andiamo, allora, dobbiamo tornare a casa! A piedi perché mi hanno rubato la macchina! Vabbè! Ma no, ma com'è possibile che ti hanno rubato la macchina? Eh, a Milano lo fanno! Grazie.